Peggy 16 Ciao, mi presento, sono il dottor Cavagnoli. Mi spiace doverti incontrare in una situazione così sgradevole, ma la verità a questo punto è più che lampante. Il campione ci ha traditi. Ah, ce ne hai messo di tempo ad arrivare. Forza, togli di quel sacco dalla testa, non siamo mica animali, siamo uomini. Così cerchi la redenzione, ma non farmi ridere. Quindi, eri davvero un ex membro del King Alassia? Mi sbagliavo. Per modificare il futuro di questo mondo, bisogna partire dal presente. Ed è proprio ciò che ho intenzione di fare, qui e ora. Ora basta parlare. Sarà la forza dei legami in storia tra i nostri qua come decidere chi sarà il vero vincitore di questa sfida. Dunque, sei disposto ad aiutarci?